salve a tutti rieccoci qui in un'altra bella partita dove il mio avversario puntuale puntuale ha giocato subito e4 fischer sei tu best by test c5 rispondiamo con la solità con la nostra la nostra arma numero uno la difesa siciliana cavallo f3 questa volta non vi giocherò un analito se no tutti i miei video sono uguali facciamo e6 perché io ho studiato completamente la siciliana quindi adotto subito la famiglia francese ecco su c3 magari volevo rientrare una timonoff in una cane questo disgraziato dell'avversario me lo impedisce poverino cavallo f6 questa comunque è la variante alla pen ritardata e5 qua rimane tutto il solito schema poi ci sono due tipi di linee soprattutto quelle più studiate in cui solitamente rientro quella in cui a volte il bianco rinuncia addirittura a spingere in d4 che rimane un po' un controsenso perché gioca la la pen vuole sempre avere la coppia di pedoni di pedoni centrali uniti e poi in questo caso adesso proseguo tranquillamente con cavallo c6 sono sempre le linee principali e poi c'è l'altro infatti come stavo appunto dicendo in cui si gioca proprio d6 lo so che può sembrare strano può sembrare molto passiva l'unico problema qua io ho sempre sofferto è l'attacco qua io decido di cambiare ok ci può stare e per d5 dove apriamo anche la diagonale alfiere campo chiaro comunque in generale qua di meno perché ora il pedone non si trova più nei 6 quindi posso anche cambiare in futuro prendiamo subito nei 5 qua al massimo lui deciderà di prendere di cavallo possiamo anche dargli scacco l'occorrenza invece di prendere di pedone fiera b4 con scacco ma comunque quando il pedone si ritrova in e5 spesso si può soffrire un attacco contro h7 dopo che si è arrocato corto perché il pedone in e5 controlla la casa f6 dove in solito c'è un cavallo che difende h7 così invece si è un po' più libero ok qui andiamo subito a cambiare poi mettere il real sicuro mi aspetto che riprenda di cavallo e poi bisogna anche osservare il pedone di donna isolato riprende con il re come osi esporre subito sua maestà a rocco corto e cerchiamo di pulirlo mentre sulla scacchiera compare il nostro caro passero solitario la posizione poi rimane giocata spesso anche se è un po' più tecnica anche se le donne sono presenti poi sulla scacchiera qua direi di concludere tranquillamente lo sviluppo l'alfiere qua se vogliamo anche prevedere il dono greco vi assicuro che me l'hanno fatta più volte e non solo in partite non certamente in partite online ma alfiere in g4 poi potremmo anche si lo so c'è il pedone qui in presa ma non è affatto un problema poi deciderò se cambiare subito o meno donna per b7 allora qua possiamo prendere subito di cavallo se lui gioca donna per presa in g2 cercando subito di complicare tanto qui sento di avere comunque una buona posizione e poi ci potremo divertire miei cari potuto in mezzo il cavallo o se vuole c'è anche la ricattura se la ricattura poi c'è anche il problema di e5 e5 qui attaccato doppiamente una minaccia latente rimane anche se il cavallo per e5 è più importante ok niente di tutto ciò però pensavo a torre a mb8 anche a costo di sacrificare persino il pedone a sete giungere in settima con scacco è il sogno confessate ovvero di ogni giocatore di scacchi ok qui presa in g2 non sono sicuro qua fra le due varianti controllerò nell'analisi sarà più corretto per il bianco cambiare subito i cavalli in maniera diciamo più in maniera un po' più indiretta bene l'alfiere qua sempre meno case disponibili torre in c8 andiamo sul sicuro anche se non posso poi approdare in settima quello che conta alla fine è sempre nonostante dopo tanti anni di partite quello che non imparo ma continuo sempre a migliorarmi perché lo sapevo già si impara fin da subito lo sviluppo dei pezzi che mi accorgo sempre di come anche guardando le partite quelle che io porto sul canale qui meglio giocare anche di 4 non si sa mai per alfiere quello che conta sempre mi hanno conto è l'attività dei pezzi torre in c1 vuole proporci un cambio come dobbiamo ragionare? dobbiamo prendere una bella bilancia e pesare subito i pezzi io qua mai e poi mai vorrei cambiare in c1 per non regalargli subito la colonna che in questo momento appartiene a entrambi di conseguenza come che non appartiene a nessuno mi prego però andare a martellare il punto b2 non in b6 qui il pedone viene comunque difeso a parte che la mia minaccia è molto più forte anche non essendo il pedone d4 difeso spero di non aver detto d5 per il lapsus tipo luca giurato esce da mio corpo luca e donna per b2 non ho potuto portare una torre in settima porterò una donna così impari e sarò ancora più cattivo poi quando si riescono sempre da notare poi quando si valuta la posizione in tutti i libri che si studiano il primo elemento da considerare è la sicurezza del re e anche questo poi fa sì che il nero abbia già una posizione superiore io mi aspettavo prima quando lui quando ho cambiato gli alfieri cavallo per d2 ha ripreso con il re strano va bene comunque un avversario che ha quasi 2100 non è un punteggio malvagio solitamente affronto avversari un po' più forti qui porta la torre ma io non vedo alcun problema per poter martellare subito con uno scacco non ci sono naturalmente ombre di mato salvo tipo quare ne uno avrei fatto scacco subito in alfiere allora cambiare le torri non assolutamente perché si prende il mato la donna quindi le torri che devono assolutamente comunicare i problemi quali potrebbero essere lui minaccia di giocare subito torre in b1 entrare in scena in questa maniera qui dobbiamo anche considerare un modo per controgiocare l'occorrenza quello qui sto pensando è la donna in b7 sperando di non ritroffermi in Zaitlost ma qua comunque non ci sono grandi grandi problemi se io fattore in b1 posso anche andare tipo in f3 per dare scacco in f2 riprendere l'attacco però comunque per attaccare dovrò assolutamente chiamare in causa le torri questo poco ma sicuro che donna f3 visto che l'abbiamo nominata l'altro problema è quello proprio dell'inattività della torre in e8 proprio come sono fatto io qui la donna va a difendere ancora l'alfiere altrimenti già andrei a valutare un sacrificio di qualità che sarebbe l'ideale poi con scacchi donna f2 con scacco cercare sempre una via più tattica per risolvere la partita rischiare la giocata come si dice nel frattempo vi invito a preparare non a metterlo ma a preparare il like se dovessi riuscire a vincere questa sfida l'avversario come ho detto ha un buon livello non manchiamoli di rispetto ma si può fare ben altro poi di certo io sono come dico il re di occulto quindi non ho paura di nessuno e devo maciullare qualunque avversario senza pietà qualche altra idea qui potrebbe essere io dico i suoi pisti sono veramente passivi sono impiegati proprio di compiti molto molto difensivi in posizioni poi di questo tipo bisogna cercare di conquistare più case possibili nella metà avversaria lui invece sta rischiando di perdere per il tempo lo zaito notteggia le porte in combe pian piano intanto il tempo se ne va mentre scorrono i secondi sulla scacchiera qui si sveglia subito con donna in i7 non so qualche taticismo invisibile fantasma che lui sta vedendo peccato però che qui donna in f2 era proprio un obiettivo e quindi vado avanti a maggior ragione qui c'è anche il problema metto in pausa se non volete lo spoiler sto per giocare il taticismo terribile ossia il re deve difendere l'alfiere deve difendere la torre troppi compiti sua maestà adesso vedrò di togliertele ma come torre per c2 funziona solo perché da scacco altrimenti c'è una minaccia donna per e8 voi credete che il terribile il re di oculto prenda il matto del corridoio donna per e2 con scacco andiamo subito a dare il colpo definitivo senza pietà ancora una volta qui re in c3 lo scacco in terza se invece va in c1 ma ormai sono tutte scelte molto tristi decide di interporre anche qua la torre allora scacco in c4 qua dovremo lavorare pian piano vincere poi l'occorrenza nella colonna b potrà intervenire anche la torre l'occorrenza invece sceglie il re in c1 ok scacco l'importante è sempre dare scacco attenzione a non subire la beffa che altrimenti giuro che se succede chiudo il canale vado a fare il raccata palla in un castratoio se dovessi prendere il matto del corridoio che fa rima e lo so sono anche un poeta come fantucci e anche poeta qua il dilemma scacco in a1 scacco in c1 lo zaito scacco in c1 qua devo giocare al colpo e poi se porta il re nella colonna b il resto è tutta tecnica oh mio caro non è che vorrei prendere il matto della scaletta un po' come la regola numero 1 un po' come i tempi dell'infanzia in cui poi si proseguiva anche con promozioni a 2 3 donne a me non li facevo così da piccolo nessuno abbandonava si promuovevano 3 o 4 origini nella scacchia diventava un harem e poi si subiva il matto della scaletta ma perché non si abbandona invece e qui il suo maestà rimane nei guai non ha ancora abbandonato mi risulta che la connessione sia sbalzi incredibile anche il wifi si rifiuta di farmi vincere come osi il tuo avversario potrebbe aver lasciato la partita no puoi reclamare la vittoria stabilire la patta o aspettare nonostante tutto sono un gentil uomo stabilisco la patta e va bene servo magnano però comunque la posizione qui è vinta come ho detto su re in d4 che poi sono tutte scelte dettate dall'esperazione su re in d4 perdi la torre la donna e la partita su re in d4 se avesse proseguito torre in b8 con scacco rina 5 matto della scaletta o interposizioni inutili poi c'è anche l'alfiere se va su casa chiara insomma tutto inutile e abbiamo ottenuto un'altra vittoria con la siciliana dovrei giocare qualche altra apertura così vi porterò qualche sconfitta non sto scherzando ma è veramente così like a questo punto vi autorizzo a lasciarlo o dislike se sono stato un po' cattivello allora